Parola d'ordine non sprecare. Adottare strategia antispreco è indice di consumatore consapevole e responsabile. Inoltre, soprattutto in tempi di crisi, la scelta di non sprecare comporta anche un risparmio da non sottovalutare. Ecco alcuni semplici consigli da utilizzare per gli acquisti alimentari. Prima di regarti al negozio, prepara la lista della spesa in base alle tue esigenze e in base al numero dei componenti della tua famiglia. Leggi in etichetta la scadenza o il termine minimo di conservazione e acquista, regolandoti di conseguenza, le quantità di cibo necessarie a te e alla tua famiglia. Non acquistare in eccedenza cibi altamente deperibili. Non cucinare più del dovuto. In caso contrario, riutilizza il superfluo cucinandolo in altra maniera oppure congelalo o donalo. In caso di offerte, fai la scorta solo se si tratta di un prodotto che effettivamente utilizzi e solo se l'offerta è davvero conveniente. Ricorda, la parola d'ordine è non sprecare.